Un giorno importante per l'Istituto Zooprofilattico di Teramo, inaugurata la nuova officina farmaceutica intitolata al compianto veterinario Bernardo D'Emidio. Una struttura straordinariamente tecnologica in grado di produrre milioni di vaccini, antigeni e reagenti da commercializzare nel paese e all'estero. Un'eccellenza in Italia, un'unicità, l'IZS Teramano diretto da Nicola D'Alterio. Noi producevamo già dei presidi diagnostici e oggi riproduciamo secondo i migliori standard imposti dai regolamenti internazionali che tengono presente la sicurezza dei lavoratori e anche la qualità del prodotto, la standardizzazione dei processi. Cosa producete? Noi produciamo fondamentalmente due prodotti che andiamo a produrre e distribuire sul territorio del paese per conto del Ministero della Salute e sono l'antigene unico a Rosa Bengala da utilizzare per la diagnosi della brucellosi nei bovini, ovicaprini, bufali e la tubercolina che invece viene utilizzata per la diagnosi intradermica della tubercolosi nei bovini. Oltre a questi, all'occorrenza possiamo produrre vaccini antibrucellari, altri antigeni diagnostici, insomma un bel panel di prodotti. L'inaugurazione dell'officina farmaceutica è stata anche l'occasione per scoprire il busto in bronzo di Antonio Dionisi, illustre scienziato e medico terramano dell'Ottocento, al quale è dedicato invece il nuovo parco verde realizzato recentemente nella sede di Campo Boario, uno spazio verde attrezzato per una pausa ristoratrice a servizio del personale dell'Istituto. Una mia presenza soprattutto per testimoniare la mia gratitudine, la mia stima all'operato dell'Istituto in questo periodo specialmente della pandemia, dove c'è stato un ottimo contributo sia per la possibilità di eseguire i tamponi, ma soprattutto anche per il discorso del sequenziamento. Attraverso il loro lavoro siamo tra le prime regioni ad aver messo in atto la procedura dei sequenziamenti e quindi un fiore all'occhiello a livello nazionale.